vorrei imparare a giocare a scacchi sto iniziando dalle lezioni di apertura la Quale potrebbe essere l'apertura? Adesso mangio questo qua. In pratica qua sta dicendo che comunque le aperture centrali sono sempre le più indicate. Sono sempre le più indicate. Quindi danno una libertà maggiore rispetto a quando noi apriamo ai lati. Alla fine considerate che è molto simile a una battaglia. Un esercito che ha una possibilità, che ha un vantaggio spaziale, ha un vantaggio in termini generali. Perché può decidere dove spostare le proprie truppe. Quindi il centro è importante. Adesso io non saprei andare avanti perché si generalmente muove un cavaliere che protegge su d4. Il centro è su... quindi praticamente dobbiamo andare a fare... No. Quindi praticamente noi andiamo a proteggere... Quindi praticamente noi stiamo facendo un attacco centrale e lui è costretto a spostarsi ai lati. Quindi ora io penso che l'equivalente possa essere... Quindi il nostro obiettivo deve essere attaccare il cavallo su A5. E come possiamo fare per attaccare il cavallo su A5? Semplicemente spostandoci qui. Ok. Buona, sinceramente non saprei quale cosa... Ah ok, quindi era con l'alfiere che avrei dovuto fare questa cosa. Quindi la prima lezione era diciamo il principio dell'apertura. Diciamo la prima grande lezione riguarda il principio dell'apertura. La seconda è sviluppare i pezzi. Nel senso di cercare di sfruttare il loro potenziale. Quindi prendi controllo del gioco sviluppando appieno il potenziale dei pezzi rapidamente dove l'oro controlla nel centro. Tu vuoi sviluppare il potenziale del tuo cavallo e i bishops probabilmente sarebbero gli alfieri e i castelli, le torri velocemente. Una volta che tu hai fatto questo è tempo di muovere la regina e connettere i rox. I rox non sarebbe forse i pedoni. Forse i bishops sono i pedoni. Il rox è l'alfiere. Questo è un grande obiettivo per l'apertura. Ok. E quindi adesso inizio le sfide. Forse non me lo fanno fare. Proteggi il tuo re. Sì, sono sfide che non si possono apprendere, mi sa, in questo... Qui bisogna avere un abbonamento, premium... Insomma, per fare. Quindi prova gratuita, messaggi, premi, statistiche. Volevo vedere le mie statistiche, quante ne ho vinte, quante ne ho perse. Ne sono abbastanza scasso. Biblioteca, archivio. È un bel sito, è fatto abbastanza bene. Problemi, battaglia di problemi, problemi del giorno. Penso che possa essere importante... Posso essere importante... Fare, insomma, questo tipo di... Di esercizi prima di giocare. Ah, addirittura qua ci sono gli streamer che stanno facendo. Magari forse mi troverò anche io, non lo so. Queste sono, diciamo, le vittorie. Io, iniziando col bianco, ho fatto tre partite. Una vinta e due perse. Iniziando col nero, due vinte e una perse. Quindi diciamo che non sono il massimo, però... Ora, qui sarebbero delle varianti. Ah, è interessante questa cosa. Sarebbe tipo un tutti contro tutti. Qua sarebbe doppia partita. Qui è quando uno non sa le posizioni altrui. Eh, sono, insomma... Eh, beh, qua penso che questo qui sia abbastanza impossibile. Allora, insomma, insomma... secondo me questo problema dell'orda funziona molto a raccogliere a raccogliere e quindi se tu hai delle posizioni dove puoi portare un tuo vantaggio in quel caso ecco per esempio qua io penserei proprio a raggruppare tutta l'orda e a cercare di offrire una possibilità vedete qui è abbastanza impossibile per lui farsi farsi avanti bisogna colmare vuoti secondo me ok 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco qua mi sono un po' sminchiato perché ho lasciato che lui salisse. Grazie. Che sono coglione. Ecco ora che l'alfiere è praticamente stato mosso sono abbastanza fottuto. Mi sa che ho vinto. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Ecco qua. Cazzo. Ho sbagliato io lasciandogli... Vabbè diciamo che l'ho persa questa qua molto... Come si fa? L'ho perso. Comunque il punto è lì. Cioè nel senso cercare di essere molto compatti. Ecco qua. 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 Grazie. 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 Sono molto scarso in questo gioco. Va bene. Qua ci sono tutte le aperture, i tipi di apertura. Grazie. 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 Cazzo. Grazie. 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 Buona battaglia di problemi, questo è interessante. Sì, sì. Grazie a tutti. 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 cazzo. a tutti. a tutti. una ce l'abbiamo. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. vediamo. speculare. non capisco perché. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. quindi... a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. quindi... e... 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 bene. e... 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 ... e... 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 ... qui... e... ... ... e... di... e... ... ... ci porto... quindi... ... 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 Vediamo se Addirittura Ho sbagliato io Una possibilità di vincere la partita E non me ne sono accorto Questa è veramente una pagliacciata Vabbè Alla prossima 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 E qui non ho niente E mi sa che me ne devo tornare a casuccia Ah sono comunque morto dai Proviamo a minacciare la regina A vedere se riesce a A vedere se riesce a cercare la regina Grazie a tutti Coglione Ho sbagliato Cazzo 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.